E' il momento di un coach che ho definito pratico, Sara. Sara, la nostra coach del Team Rosa. Il tuo percorso ad coach finisce qui. Il team è quello rosa, insomma, quindi tipo per voi continuerò a tifare per voi. Ed ecco le altre coach del Team Rosa, Caterina e Giorgia, che vanno a dare supporto alla collega che dovrà lasciare il programma tra un po'. Abbiamo perso non solo un lato del nostro triangolo, ma veramente una grande coach, una grande persona con un grandissimo cuore. Faccio un grandissimo moccalupo alle due coach, Giorgia e Caterina, che sono rimaste e che, insomma, si meritano di stare lì e di godersi ancora un po' questo percorso e, insomma, che vinca il migliore.